io stavo così ciac abbiamo messo 5 euro quindi da spesa lo vado a fare da spesa e si alza si se vogliamo fare un accordo di montaggio guardano alla porta e poi ok vai ciacchi il capo sta girando sta girando sulla schiena ragazzi ciac 35 1 settima quando volete dai seba la tua battuta giù la mano seba beh magari potresti andare in video l'azione mio padre ha detto che la prima mi troverai a casa vi mando a fare la spesa io vado ciao ciao ci sentiamo va bene io vado a fare la spesa ciao 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 ciao